Con noi è Radio Bruno e Negramaro, ciao! Ciao a tutti! Ragazzi, vi si aspettava a Sanremo, finalmente ci siete, ci siete in gara, complimenti, un pezzo bellissimo. Grazie amore, grazie tesoro, grazie tesori tutti di Radio Bruno. Accoglienza incredibile ed era quello che speravamo, nel senso abbiamo voluto portare una nuova visione della nostra musica che un po' raccoglie tutta la musica dei nostri vent'anni. Dopo vent'anni di carriera festeggiati per tutta l'estate in giro per l'Italia e per l'Europa abbiamo pensato bene di dire sì ad Amadeus con un pezzo interstellar e prima di tornare anche agli stati. Quindi ricominciamo tutto come si deve, ogni volta. Ogni volta, quindi proprio questa edizione cascava a pennello, bisognava esserci. Anche perché dice che è l'ultima, Amadeus, se non è l'ultima me l'hai promesso. Se torni l'anno prossimo si arrabbiano, Amadeus te lo dico. No, perché è l'ultima, dovete venire, siamo amici. Poi ritorna e no. Ma l'emozione ragazzi è sempre la stessa, è aumentata, è diminuita, com'è? L'emozione è sempre la stessa ma amplificata all'ennesima potenza perché comunque torniamo dopo 19 anni a Sanremo con una maturità diversa rispetto a 19 anni fa. Quindi ci viviamo i minuti sul palco in maniera totalmente diversa. Quindi c'è quell'emozione che si amplifica dentro e te la godi in maniera diversa perché rallenti un po' il tempo rispetto alla prima volta che siamo passati che è stato un battito di ciglia. Cioè siamo saliti e siamo usciti, non scesi dal palco ma usciti direttamente dal teatro. Invece questa volta ce la godiamo in maniera molto più serena, divertendoci ecco. In gala ci sono comunque dei vostri cari amici, persone che hanno collaborato anche con voi. Io volevo sapere, l'attimo prima di entrare sul palco che cosa pensate? Il messaggio più bello che avete ricevuto dopo la prima esibizione? Oggi è uscito un po' di sonante, ma ogni accordo è bello a mamma so. E poi che facciamo? Il messaggio più bello che avete ricevuto, quello che vi ha emozionato di più, un whatsapp? Vabbè, io ho avuto veramente migliaia di messaggi, però insomma nel 2005 non c'era Stella, mia figlia. Mi ha scritto, l'ho aspettato per guardarmi, mi ha mandato un video messaggio bellissimo. Sì, quello per me è più bello. Poi ci sono migliaia di messaggi, però insomma troppo bello che ci sia lei. Sì, molto fortunato. Ma io mi compenetro negli altri. Cioè nel senso che prima di tutto penso che devo essere me stesso perché è questo che mi viene chiesto. Ed è già una fortuna incredibile, una cosa che ti riempie tutto il corpo. Poi in verità appena faccio questa cosa mi annullo. Cioè di me me ne frego, cioè non sono più me stesso, nel senso che sto lì, come dice Giuliano, sono un corpo che viene attraversato da quell'energia che in quel caso è l'empatia con le persone. E vedere tante persone che stanno tutte in armonia di questi tempi sembra veramente un miracolo, a parte la religione. Sì, il mio pure, quello di mio figlio Ianco, che ha detto papà è stato bellissimo. E devo dire che lui è molto critico. Quando c'è qualcosa che non gli piace, te lo dice. No, quella cosa non mi è piaciuta. Invece il fatto stesso che ti è stato bellissimo mi ha riempito di gioia e d'amore appunto. Invece a noi è piaciuto tantissimo la scelta di rendere omaggio al grande della musica italiana per la serata, delle cover, dei duetti, degli omaggi. Lucio Battisti. E starete sul palco con Malika. Sì. Allora, Battisti torna e invade le nostre vite, di tutti, con semplicità, con leggerezza. Lo ha fatto sempre con noi, è una citazione quasi non voluta nel flusso di coscienza della scrittura di questa canzone Ricominciamo tutto. Siccome siamo quelli di meraviglioso, che abbiamo riportato un po' meraviglioso alle generazioni nuove negramarizzata, abbiamo pensato di omaggiare, in questo senso, il più grande, Lucio Battisti, con i nostri limiti, riconoscendoli, ma in qualche modo facendoci attraversare la sua musica e facendo un po' il carondimonio, proprio traghiettiamo Lucio Battisti, quella canzone del sole che non c'è bisogno comunque di essere ricordata, ma nelle nuove generazioni forse avrà un altro senso con l'arrangiamento nuovo che abbiamo rispettosamente composto. E poi abbiamo pensato a Malika, perché Malika, come noi, ha cominciato con una mia canzone come Foglie, e se poi, e niente, ha fatto i suoi Sanremo con le mie canzoni scritte per lei. Quindi in questo ritorno, in questo back home, stava magicamente, insomma, anche lì tutta natura. Ci stava veramente alla grande, non vediamo l'ora di vedere. Anche noi, anche noi. Poi forse se è vero che c'è lui, come quasi forma di fantasma, forse ci sta dicendo di farlo diventare meno nero, sto mare. Sia il mare nero che ci portiamo dentro, perché purtroppo è normale smagliare, bisogna continuare a farlo, perché siamo errori viventi. Però quel messaggio che all'epoca poteva sembrare un po' celato da questo falò, diciamo così, forse forse doveva essere stemperato. Oggi non possiamo non vederlo, quindi dobbiamo salvarlo il mare, perché, come dice Giuliano, lì, come diceva Lucio... Mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente, quindi nessuno ci fa poi tanto caso. Ma in quel momento già c'era un tema ambientalista importante trattato nella canzone, mentre parlava d'amore e di ricominciare tutto anche lì. È verissimo, perché poi alla fine la canti in spiaggia, un falò, la cantichi in gita. Una volta si faceva anche così, però quel significato lì magari ti sfugge, e invece con voi, grazie a voi e Malika, lo approfondiremo ancora di più. Grazie, proveremo. Grazie ragazzi, quindi poi questa versione, non so, entrerà nei vostri live, nel lavoro... Prima entrerà nei vostri cuori, spero. Se entrerà nei vostri cuori, entrerà ovunque. Sicuramente sarà così. Grazie mille, Negro Amaro. Grazie a voi. Ciao Radio Bruno. Ti faccio un jingle nuovo, se vuoi. Ascolto Radio Bruno. Un po' ci sta, dai.